Salve a tutti Giovanni Droidi e buon 2024! Io sono sempre Gaetano e come da tradizione voglio dedicare il primo video dell'anno a tutti i prodotti di Star Wars che usciranno nel corso di questo 2024 che sarà davvero ricchissimo, non solo dal punto di vista delle serie tv, ma anche per quanto riguarda tutti gli altri media di Star Wars e quindi romanzi, fumetti e soprattutto videogiochi. Siete curiosi di scoprire tutte le uscite di questo 2024? Ve ne parlo come sempre dopo la sigla! Prima di cominciare ci tengo a ringraziare soprattutto ad inizio anno tutti coloro che sostengono il mio lavoro con il canale tramite abbonamento e se non l'avete ancora fatto vi lascio in descrizione un link utile per abbonarvi e per tutte le informazioni in merito. Se invece siete nuovi su questo canale vi invito ad iscrivervi per scoprire un universo fatto di insolenza e soprattutto di tantissimi approfondimenti dedicati al franchise di Star Wars. Ma cominciamo subito a parlare di tutte le uscite di Star Wars di questo 2024 che saranno davvero tantissime e soprattutto molto interessanti e vorrei partire dall'universo cartaceo parlandovi prima dei fumetti e poi dei romanzi che arriveranno in Italia nei prossimi mesi. Ovviamente ci tengo a sottolineare che vi parlerò appunto delle uscite italiane poiché sia in merito ai romanzi che ai fumetti le uscite statunitensi sono un po' più avanti e quindi partiamo come vi dicevo con i fumetti poiché già dal prossimo 11 gennaio potrete trovare sia in fumetteria e sia online le prime interessantissime uscite del 2024. Sto parlando di due importantissimi volumi. Il primo sarà il sesto volume della serie regolare Cacciatori d'Italia intitolato Bolgia su Bestin e il secondo sarà il quarto volume della serie regolare Darth Vader 2020 intitolato Regno Cremisi. La settimana successiva e cioè il 18 gennaio usciranno invece lo spillato 35 della serie regolare Star Wars 2020, il secondo volume dell'adattamento manga di Domandalorian e soprattutto un prodotto attesissimo da tutti i fan. Ci sarà infatti la ristampa dell'omnibus della serie regolare Darth Vader 2017, una delle serie a fumetti più belle del nuovo canone che narra le vicende legate al personaggio di Darth Vader subito dopo gli eventi di episodio 3 La vendetta dei Sith. E poiché sono sicuro che anche questa volta quest'omnibus andrà letteralmente a ruba vi consiglio di accaparrarvelo il prima possibile. La settimana successiva invece cioè il 25 gennaio ci sarà un altro debutto molto molto importante poiché arriverà in Italia il primo prodotto cartaceo dedicato alla fase 3 dell'Alta Repubblica. Si tratta dello spillato l'Alta Repubblica 1, l'ombra dello Starlight, che è il primo di quattro numeri di una miniserie a fumetti che fanno da antipasto a quella che sarà la serie regolare vera e propria dell'Alta Repubblica fase 3, che invece partirà in Italia con il quinto numero degli spillati. Per chi non abbia la più pallida idea di cosa sto parlando non vi preoccupate perché in un altro video vi ho portato una guida a quelle che sono le opere dell'Alta Repubblica e soprattutto sul canale arriverà prestissimo anche una guida più generica ai fumetti canonici di Star Wars. Quindi se avete deciso che il 2024 sarà l'anno buono per cominciare a leggere Star Wars non vi preoccupate perché vi verrò subito in soccorso, tra qualche video. Dopo gli appuntamenti di gennaio, nel corso dei primi mesi del 2024, proseguiranno le uscite dei volumi a fumetti e si partirà ovviamente con tantissima Alta Repubblica. Arriveranno infatti in particolare il secondo volume di Star Wars L'Alta Repubblica Avventure 2022 e il secondo volume della serie regolare L'Alta Repubblica 2022. Ed entrambe le raccolte sono ambientate invece durante la seconda fase dell'Alta Repubblica che si svolge 150 anni prima sia della fase 1 e sia della fase 3. E quindi come vi dicevo in precedenza nei primi mesi del 2024 ci saranno in contemporanea sia le ultime uscite in Italia della seconda fase e sia le prime uscite della terza fase con i primi spillati. E poi ancora, sempre nel corso dei primi mesi del 2024, anche se appunto non abbiamo una data precisa d'uscita, avremo il primo volume dell'adattamento a fumetti della seconda stagione di Domandalorian e soprattutto il secondo volume della bellissima raccolta storie dall'iperspazio. Arriviamo poi a quelle che saranno le uscite di marzo, già annunciate da Panini Comics, con una novità molto molto interessante ed insolente. Infatti comincerà anche in Italia il nuovo crossover di tutte le serie regolari classiche, quindi Darth Vader, Star Wars, eccetera, e sarà intitolata I droidi oscuri. Anche questo crossover è scritto dall'onnipresente Sharsoul ed è disegnato da Luke Ross e vi posso assicurare che si tratta di storie davvero insolenti ed imperdibili. Nell'aprile del 2024 arriverà invece un'altra particolarissima miniserie a fumetti, intitolata Darth Vader Bianco, Nero e Rosso, che raccoglie quattro fantastiche storie del personaggio più iconico del franchise di Star Wars. Un pezzo da collezione che non potete assolutamente perdere, anche e soprattutto per il suo particolarissimo formato, e cioè il brossurato olandese, un formato che è un mix tra un cartonato e un brossurato. Nel giugno del 2024 uscirà invece un altro omnibus, molto molto atteso dai lettori di Star Wars, soprattutto collezionisti. Si tratta infatti del secondo omnibus della serie regolare Star Wars 2015, ambientata tra episodio 4 ed episodio 5. Come ricorderete, un po' di tempo fa era uscito il primo omnibus, che raccoglieva i primi sei volumi di questa serie regolare. Questo secondo omnibus invece finalmente raccoglie i sette volumi rimanenti, e va quindi a completare quella che è stata la prima serie regolare canonica uscita in concomitanza con Darth Vader 2015, poco dopo l'inizio del nuovo canone. Nel corso del 2024, anche se non si conosce ancora la data precisa, uscirà un volume celebrativo dei 40 anni di episodio 6 Il ritorno dello Jedi, che conterrà 5 storie inedite, in merito a personaggi che appaiono appunto nella pellicola. Il volume si intitolerà proprio Il ritorno dello Jedi, Canaglie, Ribelli e l'Impero. Ovviamente come vi accennavo all'inizio questo è il classico esempio del fatto che le uscite statunitensi precedono quelle italiane, perché questo volume è già uscito negli Stati Uniti proprio nel corso del 2023, l'anno in cui si è celebrato il quarantennale dell'uscita del film. Ma passiamo ora ai romanzi, e anche per quanto riguarda questo medium il mese di gennaio sarà davvero caldissimo. Infatti l'11 gennaio, a brevissimo, uscirà un romanzo ricercatissimo. Si tratta della ristampa da parte di Panini Comics del romanzo Ahsoka, che era stato già portato in Italia da Mondadori, ma che per varie vicissitudini era ormai introvabile. E la cosa interessante è che Panini ha sottolineato il fatto che si tratterà di una traduzione nuova e un po' diversa da quella di Mondadori. Anche se ovviamente le vicende rimarranno quelle che sono narrate nel romanzo. Sempre l'11 gennaio uscirà anche lo young adult di Cavan Scott, Il sentiero della vendetta. Si tratta in particolare dell'ultimo romanzo della seconda fase dell'Alta Repubblica, che quindi chiuderà le vicende di questa fase 2 anche in Italia. Nel mese di marzo verrà invece pubblicato Tales of Light and Life, una raccolta di storie brevi che si svolgono in tutte e tre le fasi dell'Alta Repubblica. E proprio pochi mesi dopo la chiusura della seconda fase anche in Italia, arriverà finalmente nel nostro paese il primo romanzo della fase 3, l'attesissimo di Eye of Darkness, scritto da George Mann. Ci sono poi anche altri romanzi che sono stati annunciati ma che non hanno ancora una data d'uscita certa. Tra questi abbiamo il romanzo canonico Padawan, che narra le vicende di un giovane Obi-Wan Kenobi e che arriverà appunto nel corso dei primi mesi del 2024, è soprattutto la ristampa del mitico romanzo Legends, L'erede dell'Impero, capostipite Legends di tutte le vicende riguardanti il grande ammiraglio Tron. E che verrà quindi ristampato anche da Panini Comics all'interno di quella che è la collana dei grandi romanzi Legends, tramite la quale sono arrivate sempre da parte di Panini, le ristampe ad esempio di Darth Bane, Il sentiero della distruzione, e di Punto di rottura. Tutti i fumetti e i romanzi che vi ho elencato fino a questo momento sono le uscite certe della prima parte del 2024, ma potete star certi sul fatto che ci saranno prossimamente nuovi annunci che vedranno l'uscita di tantissimi altri fumetti e romanzi nel corso della seconda parte di quest'anno. Senza contare ovviamente che tutte le serie regolari che sono tuttora in corso continueranno ovviamente ad uscire sia tramite spillato che tramite volume. E quindi appunto ad esempio le serie regolari Darth Vader 2020, Star Wars 2020, Dottoressa Afra 2020, eccetera. Ma passiamo ora ad un altro medium, e cioè quello videoludico. Anche in questo ambito ci saranno molte interessanti novità nel corso di questo 2024. Arriverà ad esempio Star Wars Hunters, un videogioco di combattimento competitivo in arena free-to-play, curato da Zing e Lucasfilm Games. Un titolo che aveva già avuto un rilascio graduale nel corso del 2021 e che invece nel corso di quest'anno, quindi del 2024, verrà rilasciato per tutti i dispositivi mobili e soprattutto per Nintendo Switch. Ma ovviamente l'attesa di tutti i fan di Star Wars è rivolta ad un altro videogioco, e cioè Star Wars Outlaws, che dovrebbe uscire nel corso del 2024 e che sarà un ambizioso titolo open world sviluppato da Ubisoft. So cosa state pensando appena avete sentito la parola Ubisoft, ma io comunque voglio dare fiducia a questo titolo, soprattutto perché nel corso dei mesi precedenti abbiamo avuto degli interessanti trailer non solo cinematici ma anche di gameplay. E confido nel fatto che possa rivelarsi davvero un bel lavoro. Di sicuro migliore di Jedi Survivor in merito all'ottimizzazione, un qualcosa di cui avrò modo di parlarvi in una futura recensione di questo titolo appena EA mi concederà la grazia di poterlo completare, visto che fino a questo momento su PC non riesco praticamente ad andare avanti. Ma avrò modo di parlarvi in maniera molto approfondita di questa pessima esperienza. In Star Wars Outlaws vestiremo i panni della fuorileggia incallita Kai Vess, e la speranza è quella di poter ottenere un titolo che tutti i fan di Star Wars aspettano davvero da tantissimi anni, e cioè un open world fatto come si deve e che ha come ambientazione principale quello che è il sottobosco criminale della galassia lontana lontana. E non è un caso infatti che questo titolo sia ambientato proprio tra episodio 5 ed episodio 6, un periodo in cui fuorileggia le organizzazioni criminali la facevano da padroni. Ovviamente in video futuri avrò modo di analizzare anche tutti quelli che sono gli indizi che già abbiamo su questo titolo, come appunto il gameplay, le ambientazioni, la possibilità di compiere delle vere e proprie scelte che avranno ripercussioni sulla nostra reputazione e tantissimi altri dettagli molto molto interessanti. E arriviamo poi ad un'altra perla davvero assoluta, che arriverà il 28 febbraio del 2024. Sto parlando della remaster di un gioco leggendario di Star Wars, Dark Forces, uscito nel lontano 1995. La remaster sarà curata dai veterani di Night Live Studios, che ci ha assicurato che questa versione sarà ovviamente identica e fedele all'originale, tranne ovviamente per quanto riguarda il comparto tecnico. In particolare il gioco potrà contare su una risoluzione 4K fino a 120 fps, sia su PC che console, Switch esclusa. Ci saranno poi tantissimi miglioramenti all'illuminazione o anche alla qualità delle texture e dei filmati di gioco, come possiamo vedere anche tramite un trailer rilasciato qualche tempo fa. Il team ha anche applicato alcuni cambiamenti ai comandi di gioco e all'esperienza utente, e sta anche implementando l'introduzione di obiettivi e trofei, per rendere comunque l'esperienza di gioco un po' più al passo con i tempi odierni. Per chi non lo conoscesse, Dark Forces può essere considerato il primo vero e proprio FPS di Star Wars. E segue le vicende del leggendario personaggio Kyle Katarn, un ex agente imperiale che viene assoldato come mercenario dai ribelli per indagare su quello che è il misterioso progetto dei Dark Troopers. Come vi dicevo quindi questo titolo completamente restaurato sarà disponibile a partire dal 28 febbraio 2024 su Steam, per tutte le piattaforme principali, PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X ed S e Switch. Ed eccoci arrivati a quelli che sono ovviamente i prodotti più attesi dalla maggior parte dei fan di Star Wars, e cioè le serie tv. Anche nel corso del 2024 avremo tantissime serie tv, sia animate che live action. In particolare ce ne saranno 4, anzi possiamo dire 5. Partendo dalle serie animate avremo la terza stagione di The Bad Batch, che sarà anche quella conclusiva e che potrebbe uscire nel corso dei primi mesi del 2024, e poi una seconda stagione di Tales of the Jedi, che anche in questo caso ci presenterà degli episodi antologici in merito ad alcuni Jedi dei quali però non conosciamo ancora l'identità. E secondo il mio parere questa seconda stagione potrebbe essere rilasciata durante lo Star Wars Day, il prossimo 4 maggio, e come era stato per la prima stagione potrebbero essere rilasciati tutti gli episodi insieme. Secondo le mie previsioni per The Bad Batch 3 invece potrebbero esserci due finestre d'uscita, o il periodo di marzo-aprile oppure il periodo più estivo, quindi ad esempio iniziare proprio da maggio con lo Star Wars Day ad esempio, e proseguire poi appunto nel periodo pieno dell'estate, quindi giugno e luglio. Dopo ciò che è accaduto nella scoppiettante seconda stagione, sono davvero curioso di vedere come si concluderà questa serie animata, e sono sicuro che ci presenterà delle vicende davvero splendide e struggenti. E la speranza è anche che a brevissimo possa essere mostrato magari un primo trailer. Come vi dicevo ci saranno dei nuovi episodi di un'altra serie animata. Si tratta della serie Young Jedi Adventures, dedicata prevalentemente ad un pubblico di età prescolare. Nel corso del 2024 infatti uscirà il quarto cur di episodi della prima stagione. E pur trattandosi comunque di un prodotto per bambini appunto in età prescolare, è interessante anche per gli adulti che seguono l'Alta Repubblica, poiché soprattutto nel terzo cur di episodi sono presenti tantissimi riferimenti a personaggi e luoghi familiari della prima fase, come ad esempio il Faro Starlight, oppure appunto personaggi come Bel Zettifar, Loden Gritstorm, la mitica Ember, eccetera. E arriviamo ora ai due appuntamenti con le serie live action del 2024. E abbiamo in primis di Acolyte, che a mio modo di vedere sarà il prodotto di punta di quest'anno, perché rappresenta una vera e propria novità assolutamente inedita nell'universo starwarsiano, poiché sarà il primo prodotto live action che si discosterà da quelli che sono i periodi di ambientazione delle vicende della saga principale di Star Wars, e quindi gli anni che tutti conosciamo, dalla trilogia prequel fino ad arrivare alla trilogia sequel. Questo prodotto infatti sarà ambientato durante gli ultimi giorni dell'Alta Repubblica, e quindi probabilmente intorno al 200 BBY, e soprattutto sarà un prodotto molto particolare perché vedremo tantissimi Jedi, ma anche i Sith e gli accoliti Sith all'opera, poiché il tema portante della serie sarà proprio quello di un'oscurità emergente nella galassia di Star Wars. E vi posso assicurare che nell'attesa dell'uscita di questo prodotto attesissimo ci saranno tantissimi approfondimenti in merito ai Sith, in merito agli accoliti Sith e a tutte le caratteristiche di questi personaggi straordinari, che vi permetteranno di non arrivare impreparati a questo appuntamento imperdibile. La serie è composta da un cast davvero stellare, ed è stata creata dalla showrunner Leslie Idland, una personalità molto molto interessante che ha creato prodotti di spicco come Russian Doll, un vero e proprio gioiello che vi consiglio di recuperare, e che si avvalsa ovviamente della collaborazione di tantissimi scrittori interessanti, e anche di questi ultimi avrò modo di parlarvi in futuri approfondimenti. Nella serie, come vi dicevo, vedremo anche tantissimi Jedi all'opera, tra i quali personaggi provenienti direttamente dalle opere cartacee dell'Alta Repubblica, prima fra tutti la Jedi Vernestra Ro, della quale aspetto davvero con trepidazione il debutto in live action. E questo prodotto potrebbe essere rilasciato intorno al terzo trimestre dell'anno, quindi nel periodo d'uscita che era stato ad esempio quello di Andor, oppure della serie Ahsoka, perciò fine agosto-inizio settembre. E questa serie, che sarà composta da otto episodi, sarà seguita da un altro show live action che chiuderà il 2024 di Star Wars, e cioè Skeleton Crew, che dovrebbe uscire più o meno nel mese di novembre e che sarà ambientata invece nel 9 ABY, e cioè nello stesso periodo di ambientazione di The Mandalorian, di Ahsoka e di The Book of Boba Fett. E infatti sarà l'ultima serie, oltre ovviamente alla quarta stagione di The Mandalorian e alla possibile seconda stagione di Ahsoka, ad essere ambientata nel Mandoverse. E avrà come protagonisti un gruppo di ragazzi che si perdono nella galassia, e che saranno poi guidati da un personaggio molto interessante che sarà interpretato dal mitico Jude Law. Questa serie, come tutte le altre del Mandoverse, è targata dei filoni, ma soprattutto John Favro, e sarà ispirata ai prodotti della Amblin degli anni Ottanta, come ad esempio i Goonies, eccetera. E ovviamente anche di questi prodotti live action, soprattutto di Acolyte, aspettiamo con trepidazione dei primi trailer, che potrebbero essere mostrati a tutto il pubblico, considerando il fatto che alla Star Wars Celebration del 2023 erano già stati mostrati dei teaser trailer sia di The Acolyte e sia di Skeleton Crew, ovviamente in esclusiva. Quindi speriamo che presto possano arrivare anche a noi. Come avrete notato, nel corso di quest'anno non uscirà Undor 2. Infatti la seconda stagione di questa serie è stata posticipata al 2025, una sorte che poteva toccare anche agli altri prodotti, soprattutto di Acolyte, dopo tutto ciò che è accaduto con lo sciopero degli sceneggiatori, e che invece ha fatto slittare solamente la seconda stagione di Undor. Il che però è sicuramente un bene, per quanto riguarda l'assoluta qualità di questo prodotto. E alla fine, come avrete potuto notare, comunque non rimarremo sicuramente a secco, per quanto riguarda il 2024. E voglio chiudere dicendo che anche quest'anno, come era stato per il 2023, c'è un grande assente, e cioè il medium principale del franchise di Star Wars, quello cinematografico. Nel corso del 2024 però le cose cambieranno, perché comincerà attivamente lo sviluppo della pellicola che sarà dedicata a Rey e alla fondazione del nuovo ordine Jedi, che sarà ambientata 15 anni dopo rispetto alle vicende di Episodio 9, e che sarà diretta dalla regista Charmino Betshoi. È scritta invece da Stephen Knight. Tra le altre cose è il creatore della splendida serie Peaky Blinders. Nel corso di quest'anno, infatti, se la sceneggiatura dovesse essere approvata, cominceranno sicuramente le riprese della pellicola, probabilmente nella seconda parte del 2024. Nella speranza che poi tutto possa essere pronto o per un'uscita nel corso del dicembre del 2025, oppure per un'uscita nel maggio del 2026. Ovviamente per quanto riguarda le novità di questo e gli altri film, di tutte le serie tv, dei romanzi, dei fumetti e dei videogiochi, troverete sempre le mie news, i miei approfondimenti e soprattutto le live anche nel corso di questo 2024, che spero di poter passare davvero in maniera serena e costruttiva insieme a tutti voi. E auguro a tutti un anno davvero splendido e soprattutto soddisfacente in merito a quelle che saranno le uscite di Star Wars. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questi prodotti e quale attendete di più, e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Io vi saluto e che l'insolenza sia con voi!